Torellino, Torellino, brindo a Torellino con il buon Brunello di Montalcino che fa rima con Torellino per quello che ho scritto Torellino nel post, sono i vini italiani, pensate che vogliono bandire vogliono bandire i vini italiani alla comunità europea perché dicono che vogliono paragonare alle sigarette, mettere alla pari delle sigarette, pensate come siamo messi, io qua sto facendo delle buone tigelle, pensate le sto facendo dedicandole a Torellino che lo potrà invitare a cena con me, Torellino, a parte le battute, torniamo serio, Torello si è arrabbiato perché praticamente YouTube, è arrivata una segnalazione da YouTube per il suo canale che potrebbero chiudere, pensate non piangere Torello, non piangere, come fai senza YouTube, cosa fai nella vita, a parte le battute, io non ce l'ho con nessuno, assolutamente, io semplicemente ho iniziato una e un dibattito, come dice, come si chiama, che mi ricordo, vabbè l'altro personaggio insieme a te, Torellino, e ho iniziato semplicemente un dibattito perché voi vi siete permessi di offendere, prendere in giro una cosa che mi hanno fatto io e Stefano Puzzer, voi potete raccontarla come volete, ma chiudiamo il discorso però, adesso dove siamo arrivati, siamo arrivati che tu continui a stimolare la gente, ad offendermi, dire guardate cosa dice questo, hai fatto un video, utilizzando il mio vecchio video di novembre del 2020, dicendo sentite cosa dice Robby Giusti, la persona seria avrebbe detto sentite cosa diceva due anni fa prima dei vaccini Robby Giusti, poi si è pentito dopo, ha cambiato idea, però pensa quanto era Robby Giusti, avrei detto, cazzo sei Torellino che aveva ragione, ero proprio coglione, perché non avevo ancora capito, non c'erano ancora i vaccini, non avevo capito, ma non puoi dire, sentite cosa dice Robby Giusti, perché è una falsità, premettendo, seconda cosa, tutti i miei contenuti sono tutelati da Unidice, sono tutelati perché io li produco, perché mi faccio il mazzo per farli e sono tutti tutelati, quindi non permetto a nessuno di usare la mia roba senza il mio permesso, se uno me lo chiede, te lo posso anche dare un contenuto, ma me lo devi chiedere, e c'è scritto sulla pagina di Facebook, se tu lo sai leggere, non hai voluto leggere, hai preso un contenuto che ti hanno mandato, mi distacce per te, però altri utenti ti possono confermare che io blocco tutti i contenuti, perché non voglio che nessuno usi i miei contenuti senza il mio permesso, e penso che sia una cosa lecita, tanto mio figlio si arrabbia con Fortnite, non ti arrabbiare con Fortnite, è un gioco, Torellino, non ti arrabbiare, ti invito a mangiare le tigelle se vuoi, un giorno mi invito a mangiare le tigelle e ne parliamo a quattro occhi, anche perché da quattro giorni che ti ho mandato un numero di telefono e aspetto ancora la tua telefonata, in quattro giorni non hai avuto il coraggio di chiamarmi, di parlare da uomo a uomo e, senza offendere tra parentesi, non ce la fai, e altra cosa, io vengo in diretta con te, il tuo amico, il tuo collega, vengo nelle dirette con gli utenti che dicono collegate a robe giusti, è qua presente, ne parlate in diretta, però non avete mica il coraggio di collegarmi, come mai? sono venuto più volte e non mi avete mai collegato, mai collegato, in diretta non evidentemente, quindi non mi chiami, perché da quattro giorni evidentemente hai paura di chiamarmi, non mi colleghi in diretta, cioè fai i tuoi video, poi mi offendi, mi offendi, continui, io non ti ho mai offeso, tu continui a offendermi, offendermi, Torellino, non ti arrabbiare, Torellino fa rima con Brunello di Montalcino, ci troviamo un giorno, mi ricordo da me, mangiamo tigelle, ci beviamo un bel bicchiere di vino, parliamo di tutto e chiariamo le cose da uomini normali, perché alla fine facciamo più o meno la stessa battaglia, in modo diverso, ma più o meno la stessa battaglia, quindi basta Torellino, Torellino basta, pensiamo a tutta la gente che sta morendo per malori improvvisi, pensiamo alle accise che ci hanno preso in giro, pensiamo a tutte le cose che stanno succedendo, la gente cosa me ne frega, dimmi te che discutiamo, siamo feggio di uomini e donne, quindi basta Torellino, basta Torellino, beviamoci un bicchiere di vino, ciao a tutti, ciao, Torellino in diretta quando vuoi, se non hai paura, perché a questo punto potreste avere paura di me, però adesso basta, vogliamoci bene, ciao